Davide Caparini, lei dice che l'ospedale di Edolo con questa legge di stabilità rischia di chiudere, perché? Perché a livello nazionale il governo Renzi ha tagliato 750 milioni di euro per la sanità lombarda. La sanità lombarda che sappiamo tutti, è riconosciuto da tutti, è essere quella che dà il miglior servizio al minor costo. E quindi da qualche parte ovviamente in Lombardia dovranno decidere dove tagliare. I primi imputati ai tagli purtroppo sono proprio gli ospedali di frontiera, quelli che hanno dei maggiori costi e minore utenza. Allora la politica locale ovviamente spetta il compito di fare delle proposte per cercare di difendere fino all'ultimo questi presidi che per noi sono fondamentali, come è fondamentale Edolo, ci sono anche tanti altri in tutta provincia di Brescia. Ma è altrettanto importante, se non fondamentale, che chi rappresenta Brescia, soprattutto nella maggioranza, soprattutto nel PD, che può avere voce in capitolo, impedisca questi vergognosi tagli di risorse proprio alla sanità, ai servizi al cittadino, perché le tasse le paghiamo, le paghiamo carissime, però in cambio almeno la sanità ce la devono dare.